Io ho detto che non c'è nulla di scandaloso se ce l'hanno, poi vi leggo anche che qualcuno fa dei commenti sulle agenzie dicendo che dai ha preso un colpo di sole chi è? chi è? chi è? chi è? Beh ad esempio lo ha detto Villari no? è Villari, è ancora lì che non vuole dare questioni ha detto che l'Inter ha giocato con la maglia bianca, con la croce rossa piuttosto che la Roma che gioca con l'effigie della lupa e quindi ce l'hanno già allora dice non c'è proprio ma assolutamente sì, ma poi ci sono tante squadre che hanno gli stenni regionali piuttosto che provinciali non ci vedo nulla di scandaloso ma per esempio? per esempio la mia Treviso, la mia Treviso gioca con il simbolo della provincia e del comune ma deve avere il simbolo della provincia, del comune o della regione? ma direi, avranno sicuramente il simbolo del loro territorio e di chi esprime la squadra perché poi magari ci sono anche molte istituzioni, molti enti pubblici che le sostengono queste squadre, non dimentichiamolo